Per i spettatori di Sela TV, buonasera, bentornati all'appuntamento con l'informazione di oggi, il lunedì 5 dicembre 2022, in apertura i titoli con le principali notizie del giorno. Calcio, uomo di 40 anni trovato senza vita con una ferita profonda alla gola, è giallo, le indagini sono in corso. Weekend di sangue sulle strade bergamasche, Manuel Rota Graziosi muore a 22 anni, a Sedrina grave una 26enne di paladina. Il comitato civico Bergamo Bene Comune attacca sul Botticelli esposto con finalità commerciali a Milano, l'Accademia Carrara risponde, polemiche pretestuose e noiose, il museo è chiuso, l'iniziativa, un successo internazionale. Bagni pubblici inaugurati in via Tiraboschi, siamo entrati a testarli, per ora utilizzarli è un'impresa. Si accende l'albero in Piazza Vittorio Veneto, in Città Alta è una magia di luci e atmosfere natalizie, con la musica di Donizetti. Goggia, weekend canadese da urlo, due vittorie in discesa libera e un quinto posto nel Super G. E l'avete sentito in apertura la notizia del giorno, da poco giunta in redazione, il ritrovamento a calcio del cadavere di un uomo di 40 anni. La vittima è stata rinvenuta sulle sponde del fiume Olio, sotto il ponte non distante da Cascina Borella, nei pressi del tratto autostradale della Brebemi e proprio sotto al ponte dell'Alta Velocità. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica, soprattutto perché il cadavere presenta un profondo taglio alla gola. Secondo le prime indiscrezioni però si tende ad escludere l'omicidio, anche perché l'auto dell'uomo era stata lasciata sulla strada diversi giorni fa. L'uomo, secondo le primissime informazioni, sarebbe di origine polacca e residente in un paese della provincia di Bergamo, ancora non noto. Sempre stando a quelle che sono le prime indiscrezioni, pare che l'uomo fosse scomparso da casa l'1 dicembre. I familiari avevano denunciato la sua scomparsa, che non era tra l'altro la prima, perché altre volte aveva fatto perdere le proprie tracce. Vi daremo ulteriori aggiornamenti già in questa edizione, se ne arriveranno, oppure nella prossima. È stato il fatto che si indaga per la morte di un quarantenne a calcio lungo le rive dell'Oglio. E purtroppo ci sono tanti dettagli che riguardano invece la morte di un ragazzo di 22 anni, accaduta nella notte, tra venerdì e sabato. Un incidente stradale a Nembro, a bordo della Golf, guidata dalla stessa vittima. C'erano altri due ragazzi, poco più che ventenni, fortunatamente usciti illesi. Ma il dolore di Ranica, dove risiedeva Manuel, 22 anni, è davvero tanto. Sentiamo il servizio. Manuel Rotagraziosi, 22 anni di Ranica, è morto nella notte tra venerdì e sabato, in seguito ad un incidente stradale accaduto a Nembro, in via Vasvecchio, al confine con Alzano Lombardo. Guidava la sua Golf, dove a bordo c'erano altri due amici, poco più che ventenni, quando nella curva destra, che porta verso un rettilinno lungo un canale d'acqua, ha perso il controllo finendo dritto nel fossato. I due amici si sono salvati, riportando solo qualche ferita e rischiando l'ipotermia. Per lui, invece, non c'è stato nulla da fare. Scioccanti le immagini dei soccorsi, ancora più agghiaccianti i racconti dei soccorritori stessi, che hanno trovato i ragazzi in piedi sull'auto, la quale intanto si stava riempiendo di acqua. La sua morte ha sconvolto la famiglia, ma tutta la cittadinanza di Ranica, che si è stretta nel dolore durante queste giornate fino al funerale di oggi. Un andirivieni continuo dall'abitazione di Manuel, tra amici, parenti e conoscenti, un fiume di lacrime copioso come la pioggia di questi giorni, forse la stessa che ha causato l'incidente. Via Vasvecchio si imbocca dopo una discesa ripida e la curva dell'incidente è a gomito, di notte particolarmente insidiosa. Lì, ora, restano soli fiori a ricordare il sorriso del giovane. Un guarda è il provvisorio per sostituire quello sfondato e ancora il paraurti dell'auto sulla riva del canale. Ieri, nel pomeriggio, altro spettacolare incidente, ma per fortuna senza gravi conseguenze. È successo poco prima delle 18 a Trescore Balneario, coinvolte quattro persone, tra cui anche una bambina di due anni. Infine, da Trescore a Sedrina, sui ponti, dove una ragazza di 26 anni è stata ricoverata in gravi condizioni dopo che ieri mattina ha perso il controllo della sua auto che ha terminato la corsa contro il guardrail, il quale è stato provvidenziale. Se non avesse retto il colpo, per la giovane si sarebbe profilato un volo nel vuoto di diversi metri che sarebbe potuto essergli fatale. Lasciamo adesso la cronaca e parliamo di attualità. La cultura scala la graduatoria della nostra scaletta insolitamente, ma perché la polemica si fa molto accesa. È scoppiata a Milano per via di un'esposizione sul Grattacielo PVC dedicata a Botticelli. Le opere arrivano dall'Accademia Carrara per via di una partnership che è iniziata già da qualche tempo e il dibattito è sempre lo stesso tra i cultori, tra i puristi dell'arte e quelli che invece l'arte vorrebbero portarla fuori dai musei. Si tratta di cultura o di pubblicità? Luca Cavadini ci racconta che cosa è successo. Polemiche a tinte forti tra il comitato Bergamo Bene Comune e l'Accademia Carrara. Oggetto del contendere, l'iniziativa che ha portato un capolavoro del Botticelli a Milano. La pinacoteca è temporaneamente chiusa ed il prezioso ritratto Giuliano De Medici sta facendo bella mostra di sé nella famosa torre PWC. L'azienda risulta essere membro della Fondazione Carrara e sponsorizzerà la sistemazione degli spazi verdi del museo che riapriranno grazie al generoso benefattore che osa ironicamente il comunicato dei contestatori condiviso dal professore di storia dell'arte Diego Bonifaccio iniziativa culturale o scambio commerciale? Perché non culturale? Perché ovviamente le opere dovrebbero essere portate fuori dalla loro sede nel momento in cui servono per motivi di tipo scientifico. Ora, qui di scientifico non c'è proprio nulla. Il rischio è semmai che un ulteriore tournée dell'opera possa produrre le guai all'opera stessa. Nessuno fa niente per niente, basta avere soldi e si compra tutto, anche il Botticelli a casa propria. È la provocazione del comitato. Una volta esisteva un ottimo strumento per le arti, si chiamava mecenatismo. Ovviamente qui non siamo più al mecenatismo, ma siamo al dot des, cioè uno scambio commerciale. Bergamaschi e Carrara, il ruolo della cultura in Italia. È giusto che tutti paghino per la minoranza di interessati all'arte? Ovviamente possiamo anche abbattere il Colosseo e farci un bel quartiere di abitazione di lusso. Possiamo chiudere gli uffizi, possiamo chiudere Brera. Certo, tutti i soldi risparmiati da un certo punto di vista. È tristissimo. È vero che le istituzioni spesso non riescono a incidere, penso proprio alla dimensione scolastica per esempio, su queste cose. Ma è altrettanto vero e patetico, provo anche, il fatto che se si espone un'opera in una torre di una società importante, allora lì c'è il sold out dopo cinque minuti. E noi abbiamo chiesto a Gianpietro Bonaldi, responsabile operativo dell'Accademia Carrara, una risposta ovviamente a sostegno della scelta del museo. Ho letto dei suggerimenti negli articoli del Comitato Bergamo Bene Comune, insomma ci pungolano spesso e questo va bene perché ci aiuta a migliorare. Devo dire che sempre più frequentemente però stanno diventando le loro polemiche pretestuose e quindi quando sono più d'una noiose. Non riesco mai a riscontrare elementi di approfondito suggerimento, ma sempre più e ormai solamente di polemica. In questo caso credo abbiano superato loro stessi. stiamo prestando questo capolavoro di Botticelli non in una casa ricca e privata, ma in un contesto straordinario, uno dei gioielli dell'architettura contemporanea, la torre di Liebeskind, disegnata da Daniel Liebeskind a Milano, a 130 metri di altezza e dunque volendo appositamente creare una relazione forte tra l'opera d'arte e l'opera architettonica. Il progetto avviene, come sanno tutti, ad Accademia Carrara chiusa e dunque quell'opera in questi 15 giorni sarebbe stata visibile da zero persone, in questo caso invece sarà visibile e vista da circa 10.000 persone e punto 3 è un'operazione davvero di profilo nazionale, ma aggiungerei internazionale. Milano è una vetrina strategica per Bergamo, per Bergamo e Brescia, capitale italiana della cultura e quindi anche per Accademia Carrara. Veniamo adesso in città perché sabato sono stati inaugurati in via Tiraboschi i bagni pubblici, un servizio annunciato da tempo dal comune, finalmente è diventato operativo. Noi siamo andati a testarli e c'è qualche criticità al momento, utilizzarli non è proprio semplicissimo. In via Tiraboschi, a due passi dai propri lei, hanno ufficialmente aperto i bagni pubblici. Un servizio sicuramente molto utile per il centro città, anche perché è di fatto assente prima dell'inaugurazione, ma migliorabile. Noi siamo entrati per un test, rilevando alcune criticità. L'idea è all'avanguardia, tutto è automatizzato, si auto-igienizza e chi usufruirà dei servizi non dovrà toccare nulla dal momento in cui entra a quello in cui esce, persino la carta igienica scende grazie ad un sensore. Qui però sorgono i primi problemi. Le informazioni su come utilizzare i servizi ci sono, ma questo fondamentale dettaglio non è specificato ed inevitabilmente saranno in molti a premere sui bottoni luminosi presenti. Secondo aspetto, i costi. Strisciando la tessera sanitaria i bagni sono gratuiti, altrimenti servono 50 centesimi. Anche in questo caso la norma è scritta, ma occorre arrivare fino in fondo alla lettura per capire come fare. Inoltre, le tessere sanitarie, come e dove strisciarla, non è certo immediato. E poi qualcuno ha già avanzato critiche sul fatto che sia a pagamento. Io sono un dipendente ATB, quindi è sempre un problema per noi andare in bagno, visto che tanti capoline non esistono e i minuti sono sempre quelli. Sì, un buon servizio dovrebbero essere gratuiti, secondo me. Gratuiti, almeno il bagno. Aggiungiamo noi. Funzioneranno anche le tessere sanitarie dei turisti stranieri? Per quelli dell'Unione Europea probabilmente sì, ma per gli altri? Capitolo turisti appunto. Le spiegazioni su come accedere alla tua letta pubblica sono in italiano e in inglese e ci mancherebbe. Ma la scritta bagni pubblici è solo in italiano. Google traduttore ormai è utilizzato da tutti, ma le emergenze, si sa, non possono sempre aspettare. Sempre a questo proposito sarebbe necessario che almeno in centro città venissero inserite segnaletiche che portino i bagni pubblici. Detto questo, l'auspicio è che ora questi locali restino in funzione e non siano altro luogo di degrado. La zona non è delle più semplici della città. Ma c'è una guardiola a monitorare i movimenti. Un presidio doveroso. E c'è un altro aspetto della città di Bergamo a lungo dibattuto. La facilità per i portatori di handicap nel muoversi appunto nelle vie cittadine. Nel weekend ricorreva la giornata per i diritti dei disabili. Allora noi abbiamo fatto un focus proprio su questo con la nostra Silvia Valenti. Le barriere che rendono una città inaccessibile non sono solo quelle architettoniche, costituite da scale, ascensori non funzionanti, porte strette per persone con difficoltà motorie. Sono anche limiti all'accessibilità a servizi digitali, opportunità lavorative, sport e svago per soggetti che vivono anche altre forme di fragilità. A loro guarda la giornata mondiale per i diritti dei disabili per sensibilizzare sul tema dell'inclusione a 360 gradi. Ogni disabilità ha bisogno di specifichi accorgimenti. Quindi sicuramente si può consultare il disabile e si può iniziare a progettare con la disabilità in mente già dal principio perché se io progetto qualcosa di non accessibile e poi lo devo rendere accessibile sarà sempre un mettere una toppa e tra l'altro costerà un sacco. C'è ancora poca coscienza, soprattutto sulle nuove professioni, del potere che può avere l'informatica, di quante strade può aprire la tecnologia. Bergamo è una città accessibile? Il voto è un 7, ma potrebbe fare di più. Il rifacimento del sentierone che esteticamente è molto bello, però il fatto di aver scelto una pavimentazione particolare che è un porfido molto irregolare per cui non piano rappresenta una difficoltà per le persone con difficoltà motorie. L'inserimento lavorativo è ancora uno scoglio in Italia con solo il 35% delle persone con disabilità che trovano lavoro con una normativa, la legge 68 del 99 che prevede l'impiego di disabili nelle aziende sopra i 15 dipendenti che andrebbe oggi attualizzata. Dato ancora una volta purtroppo di grande distanza rispetto agli altri mercati del lavoro evoluti presenti in Europa. Chiaramente il mercato del lavoro, il sistema produttivo italiano dal 99 al 2022 è cambiato in maniera fortissima anche una revisione degli aspetti normativi e la capacità di intercettare le possibilità che le aziende oggi mettono sul terreno per far lavorare le persone con disabilità è uno degli elementi di sfida che ci aspetterà nei prossimi anni. Spostiamoci adesso a parlare di sanità perché sabato 10 dicembre dalle 8 alle 18 al centro vaccinale dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo nella tensostruttura creata per accogliere i vaccini da Covid sarà possibile sottoporsi alla vaccinazione contro l'influenza stagionale. Nella stessa sede si potrà ricevere anche la dose contro il Covid senza prenotazione. Un servizio che è stato messo a disposizione dei bergamaschi considerando la violenza e la alta contagiosità dell'influenza di quest'anno l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi quanto i medici siano preoccupati per gli adulti ma anche per i più piccoli col picco previsto per l'inizio dell'anno prossimo. Dalla sanità alla scuola per entrare nel mondo degli istituti tecnici nella nostra cultura nella nostra visione un po' bistrattati e sottovalutati preferiti spesso ai licei ma sono la strada migliore per arrivare subito al mondo del lavoro. Sharon Bordogna è stata in fiera dove si sono tenuti gli stati generali della scuola digitale e ci fa un po' il riassunto di quello che è il mondo degli ITS. 25 studenti di informatica cercano un tirocinio ad offrirglielo 107 imprese. Sembra una favola specialmente considerando le difficoltà che in questo periodo storico i giovani affrontano sotto il profilo lavorativo ma per coloro che frequentano i corsi degli istituti tecnici superiori è molto spesso la norma. Durante gli stati generali della scuola in scena tra oggi e domani alla Fiera di Bergamo si è voluto dedicare uno spazio anche agli ITS che permettono di accedere immediatamente al mondo del lavoro una qualità molto ricercata dalle imprese ma che nonostante il boom delle iscrizioni degli ultimi tempi viene ancora percepito come il classico ritornello del non sei bravo a studiare vai a lavorare. Il dato nazionale siamo intorno all'80% il placement nazionale i diplomati ITS entro un anno dal diploma con punte in base alle aree tecnologiche pensiamo all'informatico la meccatronica la mobilità e ai territori pensiamo per esempio io lavoro a Milano con punte che spesso sfiorano quasi il 100%. Lombardia e Bergamasca va molto bene ovviamente come placement la sfida è crescere questo ci stanno chiedendo e quindi non tanto occupare i candidati perché lì problemi non ce ne sono attrarre candidati per riuscire ad aumentare invece significativamente l'offerta formativa L'identikit degli studenti dell'ITS comprende sia coloro che cercano percorsi rapidi e pratici per accedere al mondo del lavoro che ragazzi di ritorno dal mondo universitario in netta minoranza invece le donne che si attestano intorno al 10% del totale degli studenti Pur essendo il sistema ITS Lombardo in salute sta crescendo molto siamo intorno ai 7.000 studenti siamo quasi un quarto dell'intero sistema nazionale certamente c'è ancora tanto lavoro da fare abbiamo bisogno che questi fondi PNRR che arriveranno possono essere usati anche per l'orientamento e la comunicazione E c'è ancora tanto lavoro da fare al rondò delle valli ma qualcosa si può già vedere in particolare la bretella il ponte che porterà chi arriva dalla Val Seriana direttamente in direzione autostrada per non intasare uno dei rondò più trafficati della città da stasera e per tre sere però altre chiusure per continuare i lavori Il rondò delle valli ha già iniziato a trasformarsi grazie ai lavori realizzati in tre notti nel corso della settimana appena conclusa gli automobilisti bergamaschi hanno già potuto vedere il nuovo ponte che consentirà a chi proviene dalla Val Seriana di evitare di percorrere tutto il rondò e ritrovarsi già sulla circonvallazione delle valli in direzione autostrada 8 milioni di euro per realizzare circa 600 metri di carreggiata i quali rappresenteranno una grande boccata d'ossigeno per il traffico provinciale l'obiettivo è quello di eliminare gli intoppi a rondò che soprattutto nelle ore di punta bloccavano il traffico un'idea nata a margine della realizzazione del quartiere Corus Life il quale è servito anche per ideare una ciclo pedonale che da rondò porterà verso Gorle e una bretella che da via Serassi dove sorge il quartiere futuristico consentirà di mettersi sul rondò delle valli senza dover intasare via Bianzana la nuova struttura sarà ufficialmente percorribile probabilmente d'aprile avrà un solo senso di marcia dalla valle verso la città e sarà simile alla rampa che ad oggi consente di arrivare da Bergamo e dirigersi verso la Val Seriana senza dover percorrere il rondò sicuramente di impatto scenografico la nuova rampa ci si auspica possa davvero sciogliere un altro nodo della viabilità provinciale che sarà resa ulteriormente migliore nel 2024 con il termine dei lavori per la nuova rotonda dell'autostrada intanto per consentire altri lavori alla stessa rampa da questa sera fino a mercoledì la circonvalazione sarà chiusa dalle 21 alle 6 del giorno successivo e nel frattempo c'è una città che si illumina per Natale ieri sera è stata la volta dell'albero in piazza Vittorio Veneto e poi ci sono i vicoli di Città Alta che si trasformano in magia 4 3 2 1 via domenica 4 dicembre 17.30 piazza Vittorio Veneto il Natale a Bergamo è partito da qui dall'albero illuminato alla presenza di centinaia di persone che hanno sfidato il maltempo ombrello alla mano per tornare per un istante bambini e credere nella magia di un albero alto 15 metri che svetta come una torre di luce attenta comunque al risparmio energetico e ci conduce per mano verso delle buone feste per un Natale diffuso anche Città Alta si è vestita con i suoi abiti più luminosi per la stagione natalizia una dama antica ma splendente che nella giornata di domenica complice la pioggia solo pochi curiosi hanno visto in anteprima nel suo abito di gala una premiera romantica che complici la piazza vecchia illuminata le luminarie per le strade e la magia del Bergabosco pare proiettare dentro ad una favola dove chiudendo gli occhi tutto appare meraviglioso e il male non è che un brutto ricordo temporaneamente assopito fino all'arrivo della Befana E sulle note di Donizetti che ha accompagnato le serate pre-natalizie grazie alla Donizetti Christmas noi ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo con una seconda parte ricca di sport Bentornati seconda parte del nostro notiziario che apriamo con l'Albino Leffe che purtroppo non riesce proprio a trovare continuità in questo campionato dopo la vittoria infrasettimanale in trasferta a Mantova gli uomini di Biava perdono 1-0 contro la Virtus Verona diretta concorrente per la corsa alla salvezza di Manfrin al diciannovesimo della ripresa il gol decisivo ora i blu celeste hanno un solo punto di vantaggio sulla zona play-out sentiamo le parole di mister Giuseppe Biava nel post partita aspettavo qualcosa in più da parte della squadra non tanto a livello di gioco perché è un momento che magari è un po' più difficile le squadre anche come la Virtus Verona vengono qua si difendono bene però mi aspettavo qualcosa in più e anche dopo il gol come è successo nella prima partita in casa non abbiamo avuto una reazione non ho avuto le risposte che mi aspettavo e non riusciamo a reagire non siamo lucidi nelle scelte e quindi andiamo sempre in difficoltà poi alla prima occasione ci fanno gol è una costante che dobbiamo lavorare quando andiamo sull'entusiasmo sui giocanti che ci riescono riusciamo a dare meglio di noi alla prima difficoltà ci sfaldiamo adesso è una questione solo che quando non ci riescono le nostre cose non riusciamo a metterci con la cattiveria per poter ripaltare poi quando troviamo squadre così che chiuse aspettano noi andiamo poi anche più in difficoltà ogni giorno che abbiamo potuto guardare la Virtus Verona speravamo che loro sui calci piazzati hanno fatto vedere anche due o tre azioni loro hanno fatto anche gol così fa male perché poi se non fosse studiata a vista facesse una cosa nuova che non abbiamo visto a video mi spiace perché c'è poca attenzione c'è un po' di superficialità in questo e rimanendo in tema di calcio notizia aggiunta proprio pochissimi istanti fa la Croazia di Mario Pasalic l'Atalantino si è qualificata per i quarti di finale la Croazia ha avuto la meglio sul Giappone ai calci di rigore dopo l'1-1 con cui si erano conclusi sia i tempi regolamentari che i supplementari proprio di Mario Pasalic il rigore decisivo che ha permesso ai croati di strappare il pass per i quarti di finale ora si possono sedere in poltrona dopo i dovuti festeggiamenti per attendere l'avversaria che uscirà dalla sfida tra Brasile e Corea del Sud in programma questa sera alle 20 Pasalic dunque raggiunge ai quarti di finale anche i compagni Deron e Cup Miners che appunto nei giorni scorsi hanno a loro volta battuto per 3-1 gli Stati Uniti e c'è una Bergamo che vola sulle nevi ed è la solita Sofia Goggia che non si stanca di stupire il suo avvio di stagione è stato davvero straordinario a Lake Louise in Canada tre gare in tre giorni venerdì sabato e domenica per la Bergamasca due vittorie nelle due discese libere il Super G di ieri invece si è concluso al quinto posto con Goggia che non si è smentita numeri da circo nel corso della sua discesa che gli hanno impedito appunto di centrare un risultato migliore e poi una grande rimonta insomma un quinto posto che comunque incorona un weekend da urlo Sofia adesso è seconda nella classifica generale dietro a Michaela Schifrin punti di Coppa del Mondo generale che insomma a questo punto contano ancora poco essendo appena avviata la stagione ma dicono molto sulle condizioni fisiche della ragazza di Astino che sabato dovrebbe tornare in pista nel gigante in programma al Sestrier dallo sci dalle nevi dal ghiaccio canadese al palazzetto dello sport bergamasco dove il volley 1991 è tornato a vincere lo ha fatto contro Pinerolo per 3 a 1 dopo un match è comunque equilibrato i parziali 25 a 21 24 26 25 20 25 23 a cecchetto libero nel volley 1991 la statuetta di migliori in campo per le ragazze di Micoli sesto posto in classifica consolidato e vince anche l'Agnelli TPS anche in questo caso 3 a 1 in casa contro Lago Negro 25 a 22 25 a 21 25 a 27 33 a 31 i parziali che sono serviti ai bergamaschi per avere la meglio sugli ospiti Agnelli che ora si trova in testa alla classifica in attesa che giochi Vibo Valencia in classifica appunto attualmente sono secondi i calabresi con 19 punti Agnelli TPS che invece comanda con 20 ma appunto Vibo Valencia che si trova attualmente con un turno ancora da giocare andiamo adesso a vedere che tempo farà a Bergamo e provincia nelle prossime ore vediamo se tornerà a farsi vedere il sole un saluto a tutti gli ascoltatori da Manu e Mazzolini di Trebimento come ci mostra l'animazione alle mie spalle la perturbazione che ha portato pioggia nel weekend sul nord Italia si sposta verso Levante e lascia spazio a un temporaneo miglioramento perché da metà settimana arriva una nuova perturbazione dall'Atlantico che porterà un nuovo peggioramento del tempo ma andiamo infatti a vedere più nel dettaglio come sarà la giornata di martedì sulla Lombardia giornata che vedrà ampi spazi di cielo sereno attenzione a qualche banco di nebbia al mattino specie sulle pianure più meridionali con temperature che sono a stazionare in leggero rialzo punti anche vicino agli 8-10 gradi mentre a più nel dettaglio per quanto riguarda la nostra provincia sarà un martedì di bel tempo ampi spazi di cielo sereno qualche banco di nebbia al mattino sulle pianure più meridionali temperature minime abbastanza contenute siamo di poco sopra gli 0 gradi ma piacevoli al pomeriggio punti anche vicino agli 8-10 gradi giornata di mercoledì che trascorrerà ancora l'insegna del bel tempo ampi spazi di cielo sereno temperature che sono ancora contenute al primo mattino localmente anche sotto gli 0 gradi nel pomeriggio massime che non andranno oltre i 6-8 gradi vediamo poi come sarà la tendenza per la seconda parte della settimana una nuova perturbazione raggiungerà il nord Italia a partire da giovedì portando variabilità con il rischio anche qualche fenomeno che si farà sentire anche nel fine settimana e come notiamo con temperature che sono in ulteriore lieve calo massime che nella seconda parte della settimana difficilmente andranno oltre i 6-7 gradi ma per maggiori dettagli comunque scaricate l'app gratuita di Trebbi Meteo è tutto non ci sono notizie dell'ultimo minuto io vi ringrazio per l'attenzione vi rimando a domani alle 19.15 con il nostro notiziario buon prossimento di serata con i programmi di Seila TV a 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 Grazie a tutti.